Bene amici di HDblog, anche se ho pochissimo tempo sto per perdere l'aereo ma non potevo esimermi da passare da Garmin perché? Perché presenta una smart band, la Vivo Smart, non è un'evoluzione perché si affianca alla band che Garmin aveva finora ha un display OLED Touch, vedete? Possiamo scorrere le notifiche perché si accompagna con la classica applicazione per smartphone che è la classica quella di Garmin che ci dà tutte le informazioni, si connette a tutti i dispositivi, si può connettere anche alla fascia cardio ma è impermeabile fino a 50 metri, vedete le dimensioni rispetto al mio Fitbit, è disponibile in quattro colori, fucsia, rosa e anche grigio è leggerissima perché pesa solamente 19 grammi, ovviamente bluetooth, vedete qua la connessione per caricare la batteria dicono che duri fino a una settimana e soprattutto come vi ho anticipato prima consente di leggere le notifiche vedete? In questo caso non è collegata al bluetooth ma consentirà di vedere mail, whatsapp eccetera eccetera la vogliamo provare per poi dirvi esattamente che cosa notificherà vedete la distanza percorsa, le calorie bruciate e qua come sulla smart band che affianca il motivatore tra virgolette quindi più staremo fermi più questa banda si allungherà, qua il gol e qua i passi fatti nella giornata, insomma punti a favore di questa smart band sicuramente la leggerezza perché 19 grammi sono veramente pochi, sicuramente l'impernalità perché va fino a 50 metri sott'acqua e aggiunge il plus di avere la possibilità di essere collegata allo smartphone e di notificare quanto costa? 169 euro in Italia subito dopo IFA